Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, ha firmato un'ordinanza per la prevenzione della lotta contro gli incendi. Viene stabilito che fino al 30 ottobre, con cadenza temporale, continuativa e costante e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, i proprietari e o detentori, a qualsiasi titolo, non frontisti di terreni coltivati o se incorti, fortemente inerbiti, ricadenti in tutto il territorio comunale, devono provvedere a rimuovere dai terreni, sterpaie, cespugli, rovi, sottobosco, remaglie, erbe secche, arbusti e piante arbore, infestanti o altro, nonché ogni altra possibile fonte di incendio, rifiuti compresi. Gli stessi soggetti devono assicurare, lungo i propri confini, un'apposita fascia frangifuoco, non inferiore a 10 metri. Per i proprietari di terreni laterali, invece, alle strade comunali, provinciali e vicinali, nonché tutti i proprietari frontisti di aree e spazi pubblici o gravate da servitù di uso pubblico, sono obbligate alla pulizia per una fascia frangifuoco non inferiore a 50 metri dai propri terreni, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale. Si rammenta che fino al 30 ottobre è vietato bruciare nei campi, anche in quelli incorti, le soppie delle colture, dei prati e delle erbe infestanti, nonché degli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e vicinali. Sono vietate inoltre tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili, dei danni che si verificassero, per la loro negligenza o comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite. Le sanzioni previste per i trasgressori vanno dai 25 ad oltre 10.000 euro. Si ricorda che i terreni inseriti nel catasto incendi non potranno essere interessati da trasformazioni urbanistiche per la durata di 15 anni dall'evento.